Qui stiamo notando famiglie nostre, bambini, problemi di affitto, problemi di solitudine, di separazioni familiari e nel momento proprio del covid, quindi della pandemia, dell'isolamento, della quarantena, chiamiamola come ci pare, si sono evidenziate ancora di più queste cose. Italiano sposato tra i 40 e i 49 anni, con figli minori in affitto, disoccupato o inoccupato. E' questo l'identikit di chi ha bussato alle porte della Caritas e che emerge dal nuovo rapporto sulle povertà nell'Aretino, presentato in occasione della giornata mondiale dei poveri, indetta da Papa Francesco. Turbati il nome scelto per il rapporto 2019. Questo periodo di pandemia, di covid, che cosa ha fatto? Ha generato paura, isolamento, menefreghismo, interessi. Per cui, se non ci si turba un pochino, non si ricostituisce una società e una comunità. Sono state dunque oltre 2.000 le famiglie o le persone registrate nei servizi e nei centri della Caritas di Ocesana e di quelle parrocchiali, con il 35% di italiani, che rimane così abbondantemente la nazionalità più presente. Anche quest'anno, poi, il rapporto conferma come la famiglia sia la principale condizione di convivenza registrata, con il 63,5% delle presenze e come indirettamente siano stati aiutati ben 1.415 figli minori. Non so se gli Aretini si rendono conto di questo. Perché poi c'è anche questo, insomma, che il povero, che aveva una vita normale prima e ora si trova in condizioni disagiate, insomma, un pochino anche di paura, di vergogna se la prova. Ecco, non bisogna cominciare a ritornare ad essere attenti a tutte queste cose qui. Un chiaro quadro, dunque, quello che emerge dal rapport e che evidenzia anche quanto la pandemia abbia determinato uno stato delle cose, se possibile, ancora più emergenziale. Nei primi mesi del 2020 gli interventi sono infatti già aumentati del 114%. Come si potrebbe chiamare il rapporto 2020? Il rapporto 2020? Io lo chiamerei quasi speranza, condivisione. Oppure come il Papa stesso nella giornata dei poveri ha detto, tendere la mano. Perché vedi, il povero è sempre quello che tende la mano e che ce la fa. Però bisogna che trovi qualcuno che tende la mano anche lui per aiutarlo. Grazie. Grazie. Grazie.